Questi tipi qui, in contatto, per provare ad ammazzarti questo non puoi lì dietro sparare, giusto? No, perché in fase di combattimento faccio quello che vuoi, un modello per usare questo. Il tuo è una basetta grossa, li vedo attraverso i miei, quindi... Sai che non lo so, potrei chiedergli, ma non credo che puoi sparare con una fatta immunità e andare in qualche modo, non credo. Grazie a tutti.